Ben ritrovati! Ma, Giuliano, sa fa' con quei mudandoni ascellari? Cosa? Te te aleni per le prossime olimpiadi? E per sa' far, scusami? Palla nuoto! Ma in che ruolo, Giuliano? Per fare il ballone, immagino! Dai, dai, va là che non te se può alvedere, mettete su un par de braghe, che te me pare il fantossi! Scusami per l'inconveniente, noi ne vedem dopo la sigla per le news dal Mondo Proloco! Sigla! Deo, grazie, che te te sei cambiato, Giuliano, perché prima, scusami, ma te me favi spavent? Anzi, parlando dei spaventi, avessi senti cosa che io ho fatto a Zoreri? Una passeggiata a tema Spaventapasseri e Finastrocche Trentine! Tradizioni locali, storia della gente trentina, del territorio trentino e, perché no, abbellimento e arricchimento della nostra valle. Lo abbiamo fatto con una sola iniziativa, gli spaventapasseri e le filastrocche trentine. Una filastrocca, uno spaventapasseri. Tante figure di paglia, recenti o del passato, poco importa, tante figure a farci compagnia. Che forte! Un altro evento da non perdere e il se svolgerà perde. Ve dago un indizio? Oggi la Proloco di Vergine dà il via alle feste medievali. Fate un salto nel passato partecipando all'assedio al castello o alle giostre dei cavalieri. Un programma ricco di eventi che vi intratterrà fino a domenica sera. Trovate più informazioni sulla pagina Facebook della Proloco. Allora, pronti! Adesso ne spostan a Campodenno, dove la Proloco, nel bellissimo contesto del Castel Belasi, la organizza Bollicine al Castello. Sabato prossimo, 7 agosto, qui a Castel Belasi, una serata veramente bellissima, Bollicine a Castello. Sarà una serata di degustazione vini della cantina Mezzacorona, ma non solo, anche dei prodotti del nostro territorio, come la mortandella, il grana, il miele, le grappe, e tutto contornato da questa magnifica scenografia che è quella del Castello. Vi aspettiamo! Per più informazioni, visita la pagina Facebook della Proloco, Castel Belasi, Campodenno. Ah, anche per sto weekend, eventi non ne manca, gavè l'imbarazzo della scelta. Anzi, per scoprire tutti gli eventi Proloco della settimana, vi consiglio di visitare il nostro sito, nella sezione Appuntamenti, che aggiorniamo settimanalmente. Noi ne salutiamo e alla prossima!